Francesco D'Antonio Questa casa non è un albergo Io ci sono stato in un albergo Appena sono entrato mi sono seduto, ho poggiato i piedi sul tavolino E' arrivato e il direttore mi ha fatto Ma che direi che sei a casa tua? Paolo? 8 Selvaggia? 7 Diego? 7 Renato? 7